Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è mercoledì 24 agosto si è tenuta le cerimonia di posa della stella dedicata a Luciano Pavarotti presso la celebre Hollywood World Co-Fame, presente alla cerimonia la figlia Cristina che ha ricordato il grande tenore scomparso il 6 settembre 2007. Punto Cristina Pavarotti, è un grande onore rappresentare mio padre. Al 7065 di Hollywood Bulbara ha avuto luogo la cerimonia che ha celebrato la straordinaria vita dell'artista italiano con lo svelamento della stella postuma durante il Luciano Pavarotti Day, celebrato nella giornata di mercoledì 24 agosto. Nei giorni scorsi l'account Instagram dell'organizzazione della Hollywood World Co-Fame ha raccontato al pubblico l'inizio dei lavori per la posa del riconoscimento. Cristina Pavarotti, figlia del tenore, ha preso parte all'evento dichiarando È un grande onore rappresentare mio padre in questa bellissima occasione e non so dirvi quanto desidererei che fosse qui. Se penso a lui, al valore e alla quantità delle cose che ha realizzato, alle strade che ha aperto e alle tante emozioni date e ricevute, provo ancora oggi un assenso di vertigine. In seguito, Cristina Pavarotti ha aggiunto, grazie a nome mio, delle mie sorelle Lorenza, Giuliana e Alice, di Nicoletta Mantovani e di mia figlia Caterina che è qui con me. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.